eccoci ci siamo è stata una partita complicata però alla fine contava il risultato contano i tre punti e il terzo posto che avete ripreso se noi lo sapevamo benissimo che è una partita semplice giocare contro il Chievo è sempre una partita complicata però siamo contenti di portare il risultato positivo perché è una partita che noi assolutamente non potevamo perdere i punti invece con questa vittoria ti dà ancora ancora energia per aggiungere il nostro obiettivo vi sentite a questo punto favoriti visto che il terzo posto è tornato nelle vostre mani in questo momento noi non possiamo pensare che siamo favoriti importante che ultimi due partite dobbiamo dare al massimo quelle che possiamo per aggiungere il nostro obiettivo e poi pensiamo dopo perché adesso i punti tra noi e gli altri non sono tanti sono proprio vicini invece e ultimi due partite noi non possiamo sbagliare niente la squadra è unita e compatta secondo te o magari le voci le polemiche degli ultimi tempi anche riguardo al futuro possono disturbare un pochino no 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 noi in questo momento il nostro obiettivo è molto importante di andare in Champions invece prima cosa è quello invece altre cose non noi pensiamo secondo te cosa serve per la prossima stagione per avvicinarsi alla Juve e magari poter valutare per il titolo no no noi quello che ho detto prima e noi vogliamo pensare di qualificarsi prima la Champions e poi dopo è quello che viene dopo le pensiamo grazie grazie grazie